Nell'ambito delle attività formative organizzate in occasione della giornata della memoria, nell'aula magna del liceo Bisazza è stato inaugurato questa mattina un ciclo di seminari di studio sul tema forme simboliche del razzismo. Ad avviare i lavori la dirigente scolastica Anna Maria Gammeri, che ha sottolineato che il ruolo della scuola è quello di formare i ragazzi per mettere a frutto le loro capacità. Il ricordo e lo studio della Shoah e degli altri crimini contro l'umanità commessi durante la seconda guerra mondiale hanno infatti un valore educativo soprattutto per le giovani generazioni ritenendo che l'insegnamento e l'approfondimento di quanto tragicamente avvenuto sia un veicolo per l'educazione ai valori della pace, del rispetto della diversità, della dignità di ogni individuo, della necessità di lottare contro l'antisemitismo, il razzismo, la xenofobia. Quattro gli appuntamenti in calendario, il primo dei quali affidato questa mattina allo studioso di fama internazionale Giulio Chiodi, filosofo politico e di diritto dell'Università degli studi su Ororsola Benincasa di Napoli. Presidente del Centro Europeo di Studi su Mito e Simboli, oltre che fondatore della simbolica, il quale è stato presentato dalla professoressa Caterina Resta, ordinario di filosofia teoretica dell'Ateneo Peloritano e direttore del CESMIS. Ma cos'è il simbolico collettivo su cui è intervenuto Chiodi? Si può intendere molte cose soprattutto con la parola simbolico perché intesa in molte maniere, però noi possiamo immaginare che la collettività, di qualunque natura essa sia, è una collettività che vive stati d'animo, progetti, utopie, tensioni, volontà anche di realizzare il bene comune in maniera che non può essere rigorosamente oggettiva, ma nasce da una intrinseca partecipazione sia degli stati d'animo della popolazione, sia delle tradizioni, sia da quanto avviene con il mutamento normalmente delle situazioni e le risposte organizzative sono sempre un misto, diciamo, di progetto, programma, razionalità, volontà e di componenti anche inconsapevoli, incontrollabili che nascono da situazioni complesse. L'incontro, diciamo, tra le realtà calcolabili, programmabili, desiderate consciamente e le parti invece, i componenti, diciamo così, di carattere in senso ampio emotivo, sentimentale, irrazionale, sono miste. Non si possono scindere l'una dall'altra e questa realtà inscindibile è la realtà simbolica. Al seminario cui ha preso parte tra gli altri l'assessore alla pubblica istruzione Enzo Trimarchi sono intervenuti gli alunni delle quarte e quinte classi del liceo, mentre l'intermezzo musicale è stato affidato al pianista David Carfitto.